Il presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso, è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme a una delegazione di sindaci abruzzesi dei comuni più colpiti dalla tragedia di Marsinel. La delegazione era composta dai sindaci di Farindola, Letto Manopello, Manopello, Rocca Scalegna, Turri Valignani, Castel del Monte. Presenti anche il professor Nicola Mattoscio a rappresentare la fondazione Brigata Maiella e il presidente dell'associazione Minatori Vittime delle Bois du Casier, Nino Domenico di Pietrantonio. Il presidente D'Alfonso, nel suo intervento, ha sottolineato come l'identità abruzzese sia stata costruita anche sulla tragedia di Marsinel, evento simbolo che ha segnato la memoria collettiva del territorio regionale. Per questo D'Alfonso ha chiesto al presidente Mattarella di sostenere la regione Abruzzo nella realizzazione di un luogo della memoria, a Manopello, in cui cristallizzare e consacrare il sacrificio delle 60 vittime abruzzesi della tragedia, 23 delle quali originari del comune della Val Pescara.